Oggi 2 giugno 2017 ci troviamo al campo sportivo 100 Buchi di Monte Prantone, provincia di Ascoli Piceno, per il torneo 13 Piceno Cup organizzato dalla città di San Benedetto del Tronto. I nostri ragazzi si preparano alla gara che comincerà fra circa 20 minuti, giocheranno due gare consecutive, la prima contro la Terni Est e la seconda contro la Virtus Mantrio, provincia di Reggio Emilia. In fondo si vedono i ragazzi della Terni Est, il pubblico, campo in erbetta, erba naturale. In fondo vediamo il nostro Matteo che viene preparato da Nicolò, il mister Gabriele ci tiene a fare bella figura in questo torneo. Probabilmente il nostro Anti Cup è fare due gare consecutive, ma ce la metteremo tutti per ben figurare. La prima gara, come ho detto, alle 2.30 contro la Terni Est e la seconda contro la Virtus Mantrio, provincia di Reggio Emilia. La seconda gara è prevista per le 16.30. Dopo torneremo a Castelfrentano per ripresentarci domani mattina qua, sperando di fare bene. Se tutto va bene, se tutto va bene, ritorneremo domenica, se andremo in finale. I ragazzi sono tutti concentrati, sanno che oggi devono dare l'anima in quanto devono sorbirsi due gare consecutive con una pausa di meno di un'ora, tra la gara e l'altra. Fa molto caldo, circa 27 gradi. In fondo si vedono i ragazzi della Terni Est. L'arbitro è una Lady.